Si chiama Hury Scheller, è un famosissimo illusionista inglese che ha una fama ed una popolarità in tutto il mondo elevata e pensate che vuole aiutare con il suo pensiero, con la forza del suo pensiero a far vincere i mondiali proprio all'Inghilterra, i mondiali di Qatar 2022. Si sta impegnando, gli inglesi appartengono al girone GB, il girone abbastanza complicato azzardo a dire, e già arriva a partire stata vinta per 6 a 2 contro l'Iran, eppure Hury vuole utilizzare il suo pensiero per aiutare, utilizzando, sfruttando proprio il suo pensiero, l'Inghilterra a vincere questi mondiali di calcio di Qatar. Già intervenne tanti anni fa, nel 1996, tra l'Inghilterra e la Scozia, i tre leoni vinsero per 2 a 0, ma vincevra il torneo, la Germania. Adesso Hury si vuole impegnare di nuovo, vuole a tutti i costi che l'Inghilterra vinca questo mondiale 2022 di Qatar. Lo vincerà l'Inghilterra ai posti, l'ardo sentenza, però Hury, Celler, si impegnerà un poco. Il narratore italiano di Youtube Italia è tutto, ciao a tutti.